Ciao viaggiatori, oggi vi portiamo di nuovo a Venezia, questa volta alla scoperta di itinerari meno turistici, meno frequentati. In particolare oggi ci occupiamo del sestriere di castello. Abbiamo scelto uno degli itinerari consigliati da questo libro, Corto Sconto, che vi consigliamo, che è stato scritto dagli amici di Hugo Pratt, l'autore di Corto Maltese, che hanno deciso di pubblicare questo libro riproponendo tutti gli itinerari della Venezia più nascosta meno turistica che Hugo Pratt faceva fare a loro quando venivano a visitare la città. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.